Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Il conducente dell'auto coinvolta nell'incidente che ha causato la morte di Acadino Botta, di 93 anni, a Catania, in Corsa Italia, si è consegnato volontariamente al commissariato. Gli sono stati contestati i reati di omicidio stradale e omissione di soccorso. L'ex sindaco di Vittoria, Giovanni Moscato, è stato assolto in appello dall'accusa di corruzione elettorale. Moscato ha dichiarato, è stata fatta giustizia per la mia famiglia e per la città. Sono sbarcati la scorsa notte a Lampedusa 168 migranti, tra cui 21 donne e 17 minorenni. Tra loro anche una donna al settimo mese di gravidanza. Sono stati portati nell'hot spot di contrata in Briacola. Tutta è pronta a Palermo per ospitare dal 17 al 20 marzo il IV Forum internazionale Pace, Sicurezza e Prosperità. Parteciperanno rappresentanti di oltre 40 nazioni, con l'obiettivo di esplorare le dinamiche della pace positiva e inclusiva. Lutto nel Catanese è morta a 87 anni Roberto Abbate, figura di spicco dell'imprenditoria siciliana. Originario di Paternò, Abbate ha fondato l'omonimo gruppo, contribuendo alla creazione di migliaia di posti di lavoro in tutta Italia. Per questo appuntamento è tutto, la prossima edizione alle ore 19 e 30. Arrivederci!